Presidente, signora Commissaria, viviamo in una società caratterizzata da interconnessioni continue tra le persone. Ciononostante lo straniero continua a far paura, gli episodi di razzismo e xenofobia sono troppo spesso all'ordine del giorno. Non sempre sono azioni violente, spesso sono gesti, parole, sguardi che bastano per farci capire che c'è ancora molto da fare per la promozione di una cultura dell'accoglienza. Su questo aspetto la cultura, l'educazione, lo sport possono svolgere un ruolo fondamentale, offrendo gli strumenti per leggere la complessità della realtà contemporanea e occasioni educative per sperimentare il valore della diversità. Bene dunque Erasmus+, bene Europa Creativa. L'istruzione e la formazione sono le basi per costruire società inclusive, sfatare pregiudizi, valorizzare le differenze. In quest'ottica lo spazio europeo dell'istruzione deve diventare realtà per il ruolo che può avere nella lotta contro tutte le forme di discriminazione. È fondamentale formare in maniera adeguata i docenti affinché siano in grado di lavorare in contesti multiculturali, garantendo loro una formazione continua. Infine l'educazione alla cittadinanza europea e globale, attraverso attività curriculari ed extracurriculari, è un antidoto al razzismo. Agli Stati membri devono dare maggiore spazio allo studio della storia dell'integrazione europea con l'obiettivo di promuovere la coesione sociale. Questo approccio vale sempre, a maggior ragione oggi, davanti alla guerra. Chi fugge dalle bombe russe ha diritto ad essere accolto, qualsiasi sia il suo status e il colore della sua pelle. Grazie.